Stavo in questo albergo, albergo di un milione a notte, una roba pazzesca, e al certo punto sono sceso un giorno sul divano di fronte a me, ho visto Orson Welles, ho detto, beh, non posso non andarsi a parlare, con una spudoratezza totale, perché voglio dire, ragazzino, cioè, dov'hai? Orson Welles, monumento, cioè. Io ho andato là, ho detto, excuse me, Mr. Welles, excuse me, I'm an Italian actor, e lui era bellissimo, come se non mi avesse sentito, allora io ho alzato il tono, excuse me, Mr. Welles, excuse me, I'm an Italian actor, e lui ha fatto, yes, I'm Italian actor, yes, sit down, Allora lui ha cominciato a tirare fuori delle frasi in italiano, e poi mi ha detto, cosa hai fatto, cosa fai, cosa fai, ho detto, ho fatto dei film, così e così, ho fatto il teatro con Strayler, Allora lui quando ha sentito Strayler, ho detto, però, non è male, e poi mi ha detto, altri interessi, oltre al teatro, il cinema, che interessi c'ha? Io ho detto, la lirica, mi piace molto la musica lirica, ho visto cambiare il suo viso, improvvisamente mi ha sorriso, e mi ha raccontato questa storia di sua madre, cioè, ma lui mi ha raccontato una cosa intima, cioè, tu capisci? E lui mi ha detto, io venivo portato, mia madre, che era una concertista importante, brava, molto brava, venivo portato a teatro, fin da piccolo, avevo cinque anni, al Lyric Theater di Chicago, e lei, e quasi sempre c'era un'opera italiana, naturalmente, e lei, le prime parole di italiano che io ho imparato, le ho imparate perché lei mi traduceva il libretto.